Sottoscritta al Ministero dell'Istruzione l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale intero della scuola. Assegnazioni provvisorie che saranno effettuate entro il 31 agosto per evitare la girandola dei lavoratori dello scorso anno e condizione indispensabile per consentire il regolare avvio delle attività scolastiche il primo settembre. Non ci sarà il blocco triennale per i neoassunti sulle assegnazioni provvisorie e novità sono state aumentate le tutele per le lavoratrici madri e per i genitori beneficiari delle precedenze legge 104 del 92 per l'assistenza ai figli confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno. Nel dettaglio dell'accordo è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento per diversi casi. Ancora una volta detto la Will Scuola Molise con la contrattazione siamo riusciti a porre rimedio alle cose sbagliate che ha prodotto la legge 107 detta della Buona Scuola. Tanti docenti molisani potranno fare domande e rientrare nelle nostre province sui posti liberi. Il commento della Cisle è positivo per ciò che riguarda la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità annuale oltre a quella data con i trasferimenti per avvicinarsi ai propri familiari o alle persone assistite. La domanda a cui si cerca di dare risposta per il sindacato è ancora molto consistente per gli insegnanti a causa dei tanti spostamenti in altre regioni per migliaia di loro. Per questo era fondamentale che non vi fossero blocchi temporali. Anche la Cigelle ha parlato di risultato positivo per oltre un milione di lavoratori della scuola. In seguito alla legge 107 ha spiegato circa 300 docenti molisani nonostante la presenza di posti in Molise sono stati costretti ad emigrare con quel vincolo triennale che impediva loro di avvicinarsi a casa anche in presenza di posti. Alla ministra Fedeli durante la sua visita a Campobasso i sindacati avevano sottolineato in particolare le criticità del sostegno che vedevano il rischio di assegnare agli alunni molisani docenti non specializzati pur in presenza di insegnanti di sostegno molisani trasferiti soprattutto al nord. La richiesta ritenuta imprescindibile ora è la stabilizzazione degli organici che può garantire l'immissione in ruolo dei precari e il trasferimento definitivo di quanti da anni contribuiscono al funzionamento delle scuole della nostra regione. Ha concluso la Cigelle. Grazie a tutti.